Una mattina mi son svegliato Era il canto della nostra resistenza Bella Ciao E soprattutto una canzone antifascista È diventato un imno per la libertà nel mondo In 40 e più traduzioni è una canzone che viaggia facilmente Una proposta Rai Documentari Per raccontare la storia di un brano simbolo Non si conosce chi l'ha scritta e ne chi l'ha musicata Cantato contro le ingiustizie e contro la guerra Quando la musica inizia a diffondersi Anche le persone che non partecipano alla manifestazione Uniscono le loro voci a quelle di chi protesta Bella Ciao per la libertà Questa sera 21 e 20 Rai 3